Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV, apriamo con una tragedia che purtroppo ha visto perdere la vita ad un ragazzo di appena 19 anni che si trovava in gita scolastica, i particolari nel servizio di Chiara Sadotti. Era a bordo di un frecciarozza in direzione Milano quando si è sentito male mentre stava mangiando. A causare la morte di un 19enne sarebbe stato un boccone andato di traverso. Il giovane di origini svizzere con disabilità era in gita scolastica. Quando è avvenuta la tragedia il treno si trovava nei pressi di Arezzo. Immediato l'intervento dei mezzi di soccorso sul piazzale della stazione. L'arrivo dei sanitari però non è riuscito a scongiurare il peggio. I medici saliti a bordo del treno non hanno potuto far altro che constatare il decesso del ragazzo. Sul drammatico episodio è scattata un'indagine della polizia ferroviaria retina. Gli agenti hanno cercato di ricostruire l'episodio ascoltando i testimoni mentre il treno è stato di fatto soppresso per permettere gli accertamenti. La PM Laura Taddei ha aperto un fascicolo. La salma del giovane adesso è a disposizione della magistratura all'ospedale San Donato di Arezzo per un'eventuale autopsia. Infortunio sul lavoro oggi nel territorio aretino intorno alle 11.30 è rimasto ferito un operaio di 50 anni di un'azienda che si occupa di giardinaggio. L'incidente è avvenuto in una zona del centro storico di Arezzo. Secondo una prima ricostruzione l'uomo si stava occupando della cura di un'area verde quando è rimasto ferito da una fresa ceppi, ferito ad un braccio. Sul posto si sono portati i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri di Arezzo. È stato attivato anche l'elisoccorso Pegaso. Il 50enne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Fiorentino di Careggi. Aula sotto sequestro alla scuola Margaritone. Come sappiamo la vicenda è di ieri. Questa mattina la scuola è rimasta chiusa per l'ordinanza firmata dal sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli anche per consentire proprio i controlli in tutto l'edificio. Dai primi sopralluoghi è una parte, diciamo circa un metro quadro, due metri quadri. È proprio in fondo all'aula che questi pannelli hanno ceduto. Ora stanno valutando quella che è stata la causa, però è una situazione localizzata proprio in quel punto lì. Sono a lavoro anche questa mattina i tecnici dell'ufficio manutenzione della comune di Arezzo per le verifiche del caso dopo il crollo di una porzione di controsoffitto in un'aula di una scuola aretina. È successo martedì mattina il cambio dell'ora alla scuola media Margaritone di Via Tricca. Un improvviso avvallamento prontamente segnalato dall'insegnante in quel momento in aula. Da qui la decisione è di evacuare la classe e poi il cedimento proprio mentre i ragazzi stavano uscendo. Uno studente di terza media è stato così colpito dai frammenti del controsoffitto venuto giù. È stato portato al pronto soccorso dove i medici gli hanno applicato alcuni punti di sutura. Il sindaco di Arezzo per una verifica più approfondita dello stabile ha disposto anche la chiusura preventiva e precauzionale della scuola un solo giorno ma che va ad aggiungersi alle vacanze pasquali. Proprio per evitare che ci siano altre situazioni di difficoltà all'interno della scuola anche, ripeto, da un primo controllo che era stato eseguito proprio ieri non erano emersi situazioni di criticità uguali. Anche perché la tipologia di controsoffitto che era in quell'aula lì in realtà è solo nelle aule del primo piano, quindi nelle aule del piano terra e nelle stanze dei corridoi. C'è un altro tipo di struttura che è diversa, non è direttamente ancorata, incollata alla struttura, non è in appoggio come quella che è ceduta e quindi già la situazione è limitata alle aule del primo piano. Dai controlli che sono stati fatti nelle altre aule non c'era questa criticità, però ora stanno facendo proprio un controllo proprio tecnico, non solo visivo, e quindi stanno valutando bene la situazione cercando anche di valutare quelle che saranno poi dopo gli interventi che dovremo portare avanti. Tutto questo verrà realizzato in questi giorni di chiusura della scuola in maniera tale da mercoledì che riapriranno le scuole e di avere la scuola aperta chiaramente a tutti gli alunni senza nessuna preclusione. Per i primi controlli sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno posto sotto sequestro l'aula interessata dal crollo di alcuni pannelli del controsoffitto. Si è tenuta ieri la prima udienza preliminare del processo denominato Calatruria. La CGL Toscana si è costituita parte civile. La decisione sulle istanze di estromissione per la discussione dell'udienza preliminare è fissata al 30 maggio. La decisione della CGL non è di mera testimonianza, si legge in una nota, ma conforme e coerente con il principio che solo in un contesto libero dall'inquinamento criminale può svolgersi il ruolo istituzionale riconosciuto dalle organizzazioni sindacali. Parliamo adesso invece di una operazione della Guardia di Finanza, una ferramenta usata come base di spaccio. I finanzieri hanno sequestrato hashish, cocaina e marijuana. Cocaina hashish e marijuana nel negozio nel centro di Montevarchi, ritenuto dalla Guardia di Finanza una vera e propria base di spaccio di droga. A scoprirla le fiamme gialle della compagnia di San Giovanni Valdarno con il supporto delle unità cinofile di Firenze. Nel locale i militari hanno trovato circa 130 grammi di stupefacente. È così scattata la denuncia per detenzione di sostanze stupefacenti per un 45enne Montevarchino, titolare dell'attività. La droga invece è stata messa sotto sequestro. Sempre a Montevarchi le fiamme gialle hanno scoperto anche due lavoratori irregolari in un'attività del centro storico. Nei confronti del titolare così scattato, il verbale rischia sino a 10.000 euro di sanzione per ogni persona occupata in nero. L'operazione è stata condotta dalle fiamme gialle nell'ambito dei servizi di controllo degli esercizi commerciali. Ci spostiamo adesso invece ad Arezzo dove nel primo pomeriggio di oggi c'è stata una tentata rapina nella zona di Saione. Tentata rapina al negozio di ferramente casalinghi We Are Family in piazza Zucchi ad Arezzo. Sarebbero stati alcuni cittadini ad inseguire il malvivente e consegnarlo alla polizia. Il giovane, un 27enne con precedenti, era armato di pistola e si è introdotto all'interno del negozio intorno alle 15. Voleva portare via soldi e merce ma non c'è riuscito. Sarebbe stato messo in fuga dallo stesso titolare aiutato da alcuni residenti e commercianti della zona. Nel frattempo sono arrivati gli agenti della squadra volanti della questura di Arezzo che lo hanno preso in consegna e accompagnato in questura per le procedure di rito. Poi, sentite alcuni testimoni, hanno recuperato la pistola che si è rivelata una scaccia cani. Per il 27enne potrebbe profirarsi l'arresto. Torniamo a parlare della nomina di Francesco Macria, presidente di Estra, sulla vicenda e adesso atteso il parere del Consiglio di Stato. Era l'inizio del 2023 quando il Comune di Arezzo aveva presentato il ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar del Lazio sulla illegittimità della designazione di Macria, presidente di Estra. Martedì 4 aprile si è tenuta la prima udienza senza però un pronunciamento. L'appuntamento era infatti dedicato ad eventuali approfondimenti e chiarimenti delle parti. Per la decisione si dovrà attendere ancora un mese. Il 10 novembre 2021, ANAC, l'autorità nazionale per l'anticorruzione, firmò la delibera che portò alla decadenza immediata di Macri da presidente di Estra. La legge prevede infatti che nei comuni con più di 15.000 abitanti per passare da consigliere comunale a presidente di una società con le caratteristiche di Estra sarebbero dovuti passare due anni. Così però non fu secondo l'autorità. Nel frattempo, Francesco Macri, dopo l'assoluzione da ogni accusa al processo Coingas, potrebbe tornare alla guida della Multitili di Toscana. È infatti già iniziata la partita delle nomine e a oggi, indipendentemente dal giudizio del Consiglio di Stato, non ci sarebbero più impedimenti per un'eventuale nomina di Macri alla guida di Estra in quanto il periodo di raffreddamento imposto da ANAC si esauriva a fine dello scorso febbraio. Si tratta comunque di una partita ancora tutta da giocare. Sul fronte nomine i comuni soci delle province di Arezzo, Prato e Siena non avrebbero ancora aperto il dossier. Una messa in carcere per i detenuti della Casa Circondariale San Benedetto di Arezzo al termine della cerimonia religiosa alla quale ha assistito anche la vedova del sovrintendente Emanuele Petri. Lo svelamento di una targa che è accanto al defibrillatore proprio donato appunto da Alma Petri. Il servizio. Buongiorno signora Petri, sono un ospite della Casa Circondariale di Arezzo. Qualche giorno fa ci hanno detto che lei avrebbe donato al carcere e anche a noi ospiti due macchine importantissime per le emergenze cardiache. Inizia così una lettera che un detenuto del carcere di Arezzo ha letto di fronte alla vedova di Emanuele Petri, il sovrintendente della Polfer, ucciso vent'anni fa dalle nuove BR in occasione del dono di un defibrillatore alla Casa Circondariale Aretina. Il suo dono diventa un ponte tra due mondi che sono contrapposti. Queste sono state le parole del direttore del carcere. Certo, assolutamente sì, anche perché nel mio cuore non c'è mai stato odio per nessuno e quindi questa era una cosa che io tenevo da tanto tempo nel mio cuore, di poter fare qualcosa per qualcuno, soprattutto per gli ospiti di questo istituto o di qualche altro istituto. Poi è venuta l'idea di poter portare un defibrillatore, quindi per me è stato un sogno che si realizzava perché all'indomani dell'uccisione di Emanuele ho avuto tanti attestati di solidarietà da tante persone, da tanti cittadini, da tutta Italia e ho ricevuto anche tanti biglietti dai ospiti delle carceri d'Italia e quindi mi sentivo proprio di dover fare qualcosa proprio per me stessa, per la serenità del mio essere. Il cuore di Emanuele c'è scritto nella targa, accanto al defibrillatore continua a battere nei nostri cuori. Secondo me è un segno straordinario perché pensare che il carcere con i suoi detenuti si incontri con un dono della vedova di un sovrintendente della Polizia di Stato è un segno di speranza, è un segno veramente rivoluzionario e che specie in questo periodo di difficoltà, di guerre, è un segno veramente che unisce. L'occasione è stata la messa per i detenuti, ufficiata dal Vescovo di Arezzo Andrea Miglia Vacca, cerimonia a cui hanno voluto assistere anche i detenuti di religione musulmana. Guardando ai luoghi di vita di Gesù, certamente il carcere è stato un luogo dove Gesù ha vissuto la sua esperienza, dove davvero è stato. Accanto al defibrillatore ha anche un elettrocardiografo donato dal centro chirurgico toscano e da Sapra. È un'idea e un contributo concreto della famiglia, della signora Petri, della moglie di Emanuele Petri che purtroppo, quando avevo dieci anni era un mio amico, abitava accanto a casa mia e l'ho ritrovato nelle cronache di venti anni fa, ucciso dalle Brigate Rosse e quindi questa piccolezza di aver contribuito ad avere un pensiero mi è sembrata una cosa doverosa. Tutti gli agenti della Polizia Penitenziaria Retina stanno effettuando il corso per l'utilizzo del defibrillatore e successivamente lo faranno anche i detenuti. Assolutamente, tutto il personale di Polizia Penitenziaria sta facendo il corso di formazione per usare il defibrillatore e tra poche settimane, dopo Pasqua, verrà fatto il corso anche per gli stessi detenuti. Quindi diventerà una comunità proprio cardioprotetta e che può salvare delle vite. Addirittura ci hanno spiegato gli operatori che fanno il corso che anche nella strada, accanto, nella pertinenza diciamo del carcere, se ci fosse un bisogno noi potremmo intervenire e aiutare chi ha bisogno di soccorso. Un corso per imparare a volersi bene l'idea della misericordia di Arezzo pensando ad un volontariato di relazione mi appaiono chiari alcuni aspetti, commenta la dottoressa Martina Della Bella, psicologa e psicoterapeuta che appunto terrà questo singolare corso. Ho redatto uno schema, ha detto, creato ad hoc con incontri mensili su temi di psicologia generale in cui affrontare temi della nostra vita quotidiana che necessitano di una gestione anche interiore diversa per essere gestiti nel migliore dei modi. Sono sei gli incontri già programmati fino alla fine dell'anno. Parliamo adesso invece di liste di attesa per abbatterle, c'è una ricetta della Regione Toscana. Un pacchetto di provvedimenti per migliorare aspetti importanti del sistema sanitario toscano dal contenimento delle liste d'attesa per le prestazioni chirurgiche e ambulatoriali al preaccordo con la medicina generale sino all'istituzione di un numero unico per le prestazioni non urgenti. Queste le misure licenziate dalla Giunta Toscana. Per contenere le liste d'attesa la Regione ha approvato due nuove delibere. Il primo elemento è che noi attuiamo delle misure che sono consentite dal Mille Pro che erano state fortemente richieste da tutte le Regioni e che il Governo alla fine ha definito con la possibilità di usare lo 0,3% del Fondo Sanitario Nazionale sono circa 23 milioni di euro in deroga ai tetti di spesa del personale ai tetti di spesa del ricorso al privato convenzionato. Quindi dopo l'approvazione di questa delibera entro il mese di aprile le aziende sanitarie dovranno definire piani specifici di contenimento delle liste di attesa per ogni ambito territoriale usando una quota di questi 23 milioni di autorizzazione di spesa che nella delibera viene attribuita per l'appunto ad ogni singola azienda. E questa è la prima misura che dovrebbe consentire di contenere un po' il fenomeno delle liste di attesa sia sul lato delle prestazioni ambulatoriali sia su quello delle prestazioni legate alla diagnostica sia per gli interventi chirurgici. L'altra delibera invece ha un carattere più strutturale e riguarda il modello organizzativo di governo della relazione tra domanda e offerta di prestazioni per la quale viene definita un'architettura e soprattutto viene introdotta una figura che per ogni azienda avrà come compito esclusivo quello di monitorare l'equilibrio tra domanda e offerta di prestazioni e di intervenire qualora ci siano situazioni di criticità. I saldi estivi in Toscana inizieranno il 6 di luglio e proseguiranno per 60 giorni negli ultimi anni afferma il direttore di Covcommercio Toscana Franco Marinoni ci eravamo abituati ad un avvio il primo sabato di luglio ma quest'anno sarebbe caduto troppo presto addirittura il primo del mese questo posticipo fissato in sede di conferenza delle regioni e delle province autonome lascia invece alcuni giorni in più alle normali vendite stagionali anche se aver scelto un giorno infrasettimanale potrebbe rendere un po' meno brillante appunto la partenza dei saldi estivi. Si è concluso con la consegna degli attestati il corso di barman inclusivo organizzato dall'agenzia formativa CESCOT di Confesercenti Arezzo in collaborazione con la cooperativa sociale Montelocale Nel locale della scuola di cucina Chef al 17 di via Spallanzani ad Arezzo i 15 allievi hanno ricevuto l'attestato del corso di formazione barman inclusivo un diploma dal doppio valore sia dal punto di vista lavorativo che sociale in aula hanno imparato i segreti dell'arte e del mestiere ma le ore trascorse insieme sono state preziose anche per rafforzare i legami di amicizia e di inclusione. E siamo allo sport manca davvero poco per l'Arezzo al traguardo adesso di fronte c'è l'impegno contro l'ostiamare che dopo il grosseto ha detto mister indiani è una delle partite più importanti. Il rischio è che ti basti la prima finale vinta cioè che tu sia soddisfatto della prima finale vinta e la seconda non dargli l'importanza della prima vediamo di sfatarlo questo discorso. Indubbiamente la partita di sabato era difficilissima e ne siamo usciti direi nel modo migliore due finali è chiaro a questo punto se vinci anche la seconda finale arriva allo sconto diretto 9 punti di vantaggio sono tanti a 4 alla fine ma è chiaro la difficoltà di entrargli dentro di fargli poco con queste caratteristiche qui però rispetto all'andata oltre l'allenatore cambia anche il sistema di giochi molto probabilmente avranno scelto un discorso più coperto non lo so ecco perché tutti i gironi di torno noi analizziamo le ultime 2-3 partite chiaro le ultime 2-3 partite insomma è una squadra che io lo dissi già all'andata è da stupirsi come mai con una qualità tecnica del genere e abbiamo vestito i punti qua chiaro non lo sai perché non sei dentro figuriamoci se voglio entrare in loro però vedendo le qualità tecniche dei giocatori singolarmente hanno poi molto coi punti ma io credo fu importantissimo era di Ponzà con quella situazione là perché uscì lì con tre punti fu stra fondamentale però bisogna guardare in tutto l'arco di campionato e credo forse la più importante è stata Pian Castagnaio proprio dopo Ostia dopo la sconfitta di Ostia che andammo là con 5 punti di svantaggio noi giovavamo a Pian Castagnaio a meno 5 a meno 5 prima dell'inizio eravamo a meno 5 con il rischio di andare a meno 8 ecco la squadra e eventualmente fu lì che ha detto guardate siamo a meno 5 perché però oggi poi alla fine no oggi si è dimostrato che possiamo giovarcela anche noi fino in fondo non siamo da meno 8 rispetto a loro e loro in quel momento andavano a mille vincevano tutti l'anno scorso quando vincemi campionato no non vincevamo il campionato quando vincevamo lo scontro diretto lì a Poggiunzi forse fece peggio no quando la cosa è importante difficile l'anno scorso addirittura andammo lì con più 2 con la sconfitta andavamo sotto a tre giornate alla fine e quest'anno era consideravo ecco la consideravo fondamentale prima all'inizio poi dopo la fine dopo anche i risultati di giorno dopo poi la pianese però non lo puoi sapere noi giocavamo prima ecco la facevo difficile 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 quando ecco mi succede tu esci fuori da una partita difficile 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 se esci bene deve risultare e poi ah in ultimo me li stisavano anche per quei ragazzi erano venuti là sono un cignone là a incisarci anche senza vedere la partita ecco mi sembrava molto bello risultare con loro è tutto per questa edizione del nostro telegiornale grazie per la cortese e attenzione arrivederci grazie per la visione